Vito, qua tu non è arrivato. Roberto, sai chi trova la casa dei suoi ucci? Vito ti ho mandato tutto il quartiere per sapere di... Scusatemi, spero che non puoi venire a sconcecare, Don Vito. E che posso fare, Don Roberto? Come ne capiamo male, madonna, come ne capiamo male? Ma come? La signora Colombo può stare in tua casa? Certo che può stare. Grazie, grazie. Don Vito, io vorrei portare i soldi che mi rasto. Li torno a reto. Uno, due, tre, fuoco, fai, sei, sei, tutti. Perché con Don Vito i soldi non servono. Mi posso assaltare? Grazie. La bontà sua di evitare la paura di Vito che mi ha morto a fagare. Anzi, anzi, ce levo. Cinque scuole ce levo, va bene? Deci ce levo, Don Vito. Deci. Grazie. Grazie. Io ci posso offrire qualche cosa. Una tazza di caffè. Ma io vorrei... Buon burgo a me. Vai a un appuntamento. E' tardo, non posso stavolta. Una volta appena mi invitate, venite, mi diamo un caffè, parliamo. Non capisco che sei un amico, ma ora mi dovete scusare. Non dà una cosa per dire, eh? Non facciamo i nostri scorsi, ma stavolta mi dovete scusare. Perché io ho proprio... Ce l'ha fatto. La bucana, il salamo. E pure a me mi piace stare con voi, sapete? Perché ho capisco. Ho capisco che voi siete un amico vero con me. Ma io stavo proprio... Ma io sto a prenderne proprio... Nenio, appena mi chiamate, tu mi chiamate e io arrivo a casa. Non dimenticiamo di stavolta, ma ora mi chiede. E' tardo. La sapendo di caffè. Non comunevo con la parola di stavolta.